Un grande evento di popolo, così Genova quasi un anno fa aveva accolto il successore di Pietro, Papa Francesco. Una giornata indimenticabile in cui il Santo Padre aveva avuto modo di incontrare il mondo del lavoro, il clero, religiosi, religiose, giovani, ammalati, gente comune, anche lontana dalla Chiesa. Secondo me è stato un grande passo per permettere a tanti in più di poter partecipare, anche chi non frequentava regolarmente la parrocchia, la Chiesa, ma aveva il desiderio di incontrare il Santo Padre per motivi di lavoro, abbiamo cercato di rendere più facile partecipare e quindi entrare più in sintonia con tutta la comunità dei fedeli. Con lo stesso spirito l'Arcidiocesi propone un pellegrinaggio di ringraziamento a Roma dal Papa che si svolgerà con una modalità semplice e veloce. Partenza martedì 10 aprile alle 23, rientro mercoledì 11 aprile alle 22. Alle 8 c'è la messa di tutte le persone che partecipano al pellegrinaggio con sua eminenza Cardinale Bagnasco e questa è una prima occasione per pregare insieme. Poi all'udienza generale ci sarà un'area riservata per i fedeli che vanno a ringraziare il Papa per la visita a Genova, dovrebbe essere nell'ambito dell'udienza generale. La partecipazione è stesa ai fedeli di tutte le diocesi Liguri, gli stessi che hanno condiviso il momento particolare di grazia vissuto da Genova con il congresso eucaristico del 2016 e la visita di Papa Francesco il 27 maggio 2017. In fondo anche questa visita a Roma si inserisce non solo il ringraziamento ma andiamo dal nostro, dal vicario di Cristo, dal capo della chiesa. Quindi è tutto un susseguirsi di attività che la diocesi di Genova è riuscita a vivere e credo che sia una grazia veramente per tutti. Grazie a tutti.